Padre Gratien Alabi è stato espulso dall'ordine dei frati Premo Stratensi, lo stesso che lo aveva accolto quando doveva scontare gli arresti domiciliari. Il sacerdote congolese, adesso ex, era stato condannato a 25 anni di reclusione, sentenza passata ingiudicato per l'omicidio e la soppressione del cadavere di Guerrina Piscaia. Attualmente si trova in cella, nel carcere di Re Bibbia, dove continua a proclamarsi innocente. Adesso non potrà più celebrare messa o da altre funzioni religiose, mentre in atto anche l'iter del Vaticano per la riduzione allo stato laicale. Finalmente questa notizia è arrivata purtroppo in estremo ritardo, ma meglio tardi che mai. Tra l'altro a noi ci dà la possibilità di poter individuare come soggetto, quantomeno potenzialmente responsabile, i Premo Stratensi di Roma. La famiglia della donna, il marito Mirko e il figlio Lorenzo avevano chiesto un maxirisarcimento, chiamando in causa anche la curia di Arezzo, la stessa che aveva inviato a Caraffello il sacerdote. Noi aspettavamo proprio questa comunicazione, o meglio, noi aspettavamo l'inizio della procedura della riduzione allo stato laico, che ci rende sostanzialmente, ci renderebbe sostanzialmente la vita più facile nella causa civile, perché in questo caso l'ordine del Premo Stratensi sostanzialmente ha dichiarato che Alapi fa parte del loro ordine e anche per quanto riguarda la diocesi riconosce all'interno chiaramente dello stato pontificio che l'omicidio è stato commesso da padre Graziano e di conseguenza viene riportato allo stato laicale. Guerina Piscaia scomparve nel Lulla da Caraffello il primo maggio 2014. il corpo della donna non è mai stato ritrovato e la famiglia ancora oggi attende di sapere dove sia stato occultato. Loro, nonostante una sentenza del Tribunale italiano, ha sancito che questa donna è morta, che Guerina è morta, per loro internamente, inconsciamente, il fatto di non aver mai ritrovato questo corpo gli lascia in uno stato sostanzialmente un po' di confusione, quindi ecco, è evidente che se lui, come sicuramente sa, dicesse e quindi confessasse dove si trova il corpo di Guerina Piscaia, farebbe sicuramente un atto importante.